Il Tribunale di Salerno, terminata la direttissima, non ha optato per la detenzione, ma per l'obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria per il cubano residente a Battipaglia, definito il killer dei gatti. L'uomo, con un coltello, avrebbe tentato di colpire il noto inviato di striscia alla notizia, Edoardo Stoppa, che era giunto a Battipaglia per effettuare una serie di interviste, fra queste anche al cubano, reo di aver dato esche avvelenate ai gatti. L'arresto dell'aggressore è stato convalidato, ma il giudice ha disposto l'obbligo di firma per il cubano.